Grazie a Tzitzel, grazie a te molto. La voce è così peculiar come un instrumento, così vicino alla sceglia. Quanto è in sua voce di Tzitzel? Beh, probabilmente abbastanza, perché è la mia voce e la mia cantina. Ma ho cercato di lavorare in musicali termi e non so molto con l'emotione, l'unico, l'unico, l'unico. Quindi ho cercato di neutralizzare un po' di me quando ho lavorato. Perché la voce può facilmente diventare privata. Non mi piace privata, quindi può essere personalmente, ma non è privata. Ci sono molte tecniche che sono collegate a diverse tradizioni musicale e a l'utilizzo della voce. Hai stato inspirato da alcuni di queste? Sì, per sicuramente. Penso con l'extendente tecniche vocale, per sicuramente. Ma sono anche molto inspirato da strade formi di musica. La forma che penso di formi e strutture può come in, magari da un altro angolo, non da l'improvisazione o l'improvisazione, ma da più strade formi. C'è un'improvisazione musicale e culturale dei nordici, che è molto interessante. Qual è la tua relazione con questa tradizione? È una formazione molto importante in Norvegia. È giocato sui radio, televisioni e sui canali. Quindi sono sicuro che sono influenzata, magari non direttamente, ma non imitare, ma è parte della mia cultura e della mia abbringazione. Quindi il mio sound continuo, in cui vivo, mi sono sicuro che sia pieno di questa musica. Composare in real-time, improvvisazione, è molto importante per la tua musica. È una disciplina, una forma di approcciarla? È una disciplina. E' basata sulla esperienza. La più che fai, 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 e anche più problemi che fai con la freeform. È come composa e performa a la stessa stessa. E' un rischio rischio. Alcune volte troviamo un buon flow con la persona che gioca, altre volte non, e è un grande struggle di sviluppare cose, quindi non lo sai mai, non lo sai mai, non lo sai mai come il concerto sarà. Ci sono molti sviluppatori e vocali di sviluppare oggi e nel passato, diciamo Demetrio Stratus, Cati Berberian, Meredith Monk e molti altri. Hai apprezzato in particolare alcuni di loro? Ho scoperto con Meredith Monk molti anni fa, è bellissima, ho ascoltato a tutte le persone che ti ha spiegato, e guardate un'inspirazione dove puoi trovare, è un'inspirazione. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille.